L'oceano è arancione, l'orizzonte si perde nel nulla cosmico e qui i cosi con tanti occhi hanno tutta l'aria di volerci mangiare, ma se Robin Corrad è al timone non rimane che tenere la rotta fino a pagina 128 e sperare in un porto sicuro. Guardando questo albo del 1989 ripreso anche dalla galla come il pellegrino delle stelle anche se in bianco e nero, mi chiedo come non sia su tutti gli scaffali che pretendono di offrire una selezione esaustiva di belle avventure. E che avventura! Un viaggio a bordo di un veliero che, come in Peter Pan, fa più che solcare i mari. Ho il sospetto che possa piacere anche a chi sia in cerca di una nuova isola del tesoro in cui gli alieni vengono presi a colpi di cannone. Negli ultimi mesi ho letto diverse cose che non avevo mai visto prima. Robin delle stelle è quello che ho preferito. Trio e breccia, qui, in una forma, direi, smagliante.